di tre anni all'insegna della cultura per unire il Mediterraneo. Il Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo e il Presidente della Regione Campania Antonio Bassolino presenteranno lunedì prossimo, 22 febbraio, a Palazzo d'Orleans a Palermo il progetto Le Città del Mediterraneo, che vedrà coinvolte dal 2010 al 2012 alcune delle principali città del bacino del Mediterraneo. L'accordo, con il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, affida a Riso, Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia e alla Fondazione Campania dei Festival la gestione progettuale e operativa della manifestazione che ha l'obiettivo di favorire il dialogo, l'interscambio e la collaborazione nel settore della cultura e dell'arte tra i paesi che si affacciano sulle sponde nord e sud del Mediterraneo, Marocco, Libano, Siria, Tunisia, Algeria, Egitto, Spagna, Grecia e Turchia. Il primo passo di questa ambiziosa manifestazione è stato lo spettacolo Abitare Palermo, un'opera di teatro sensoriale ideata da Enrique Vargas e dal suo teatro dello Sentidos. Una cosa caratteristica di Palermo per noi, per me, è la dignità, la contenzione. è una profondità, una contenzione molto solare, ma in questa contenzione abbiamo trovato anche in questa dignità una parte luminosa, ma anche una parte oscura. Qual è la parte oscura? Questo non lo sappiamo, magari è la più importante, non lo sappiamo. Una sperimentazione dell'arte in chiave contemporanea ha detto il Presidente Lombardo che svolge un ruolo importante, soprattutto in vista dell'area di libero scambio, perché mette la cultura al centro di una grande possibilità di sviluppo del territorio. La rappresentazione di Vargas è dunque la prima tappa del progetto Le città del Mediterraneo, che assieme a Napoli e alla Campania vedrà coinvolte le più importanti realtà del Mediterraneo, in un'ottica di grande respiro internazionale. Sarà un'occasione, attraverso anche la rete di relazioni e collaborazioni internazionali di Riso, per valorizzare e promuovere la modernità della Sicilia e l'offerta artistica e turistica che riesce ad esprimere proiettandola verso l'Europa e il Mediterraneo. Grazie. 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 Grazie.